Le vittime della Prima Guerra Mondiale sono state commemorate nella tradizionale cerimonia Cimagrappa, più di un migliaio i presenti giunti da tutto il Veneto. L'evento è il culmine del tradizionale pellegrinaggio dal Santuario di San Vittore al Sacrario Militare, iniziativa che si svolge da 15 anni, occasione di preghiera, cammino, raccoglimento e memoria. Il tragitto parte da Anzue, passa per Villaga, Tomo, Porcen, Rasai, Seren del Grappa, percorrendo una parte del Cammino delle Dolomiti. Qui i pellegrini hanno potuto ammirare il Cervo Ligno, scolpito da Walter Scariotto, che aveva già realizzato la fontana intitolata Mirio Scopel, promotore entusiasta del cammino scomparso nel 2022. 52 km a bassa difficoltà che terminano alla Malga Bocchette, a Seren del Grappa, domenica la ripartenza, verso Cimagrappa, dove si tiene la cerimonia con l'accensione del tripode in memoria dei caduti di guerra. Un appuntamento che anche quest'anno non ha mancato di richiamare tantissimi fedeli anche da fuori regione. Quando tu hai dato tutto, che tutte quante le tue energie sono esaurite e arrivi su in cima, c'è ancora un qualcosa che c'è dentro di te che ti consente di arrivare sulla reta. Mi raccomando, tenete duro, non mollate mai. Il ricordo sicuramente ci dà la possibilità di poter costruire un futuro migliore e questo è quel che tutti speriamo. Un significativo momento di un pellegrinaggio che parte proprio dalle nostre terre, in un momento in cui noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare memoria ma soprattutto di riflettere. Un momento di convivialità per fare gruppo e anche per tramandare un messaggio ai giovani, più giovani di noi. Il fatto di averli i pellegrini dei tre versanti non fa che rimarcare quello che è il solco tracciato dai nostri padri e dai nostri nonni e che ci rivede qui a ricordare le nostre tradizioni ma soprattutto i nostri valori. Nelle prossime settimane all'interno della trasmissione Insieme in onda alle 18.30 e alle 21.30 dedicheremo ampio spazio alle immagini e alle testimonianze complete raccolte durante questa esperienza.